Questo premio mi aiuterà a impegnarmi giorno dopo giorno in questo senso. C'è un passo, un'opera molto famosa, un'opera italiana, La Bohème, che dice, un passo che ho condivido moltissimo, che dice, la brevità, gran pregio. Io voglio essere molto breve e dirvi semplicemente grazie. E questo è quello che voglio fare oggi. E questo è quello che voglio fare oggi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.